Buongiorno a tutti, benvenuti all'ottava puntata di Accessibilissimo. Sordi Cattolici Tra il 2008 e il 2009 il Vescovo di Terni, in collaborazione con Suor Veronica Amata di Roma, ha promosso una serie di iniziative al fine di realizzare attività di catechesi per i sordi con l'obiettivo di andare ad annunciare il Vangelo. Molti sordi, infatti, erano del tutto all'oscuro di ciò che riguardava la religione e il linguaggio religioso e di lì si è costituito il nostro gruppo. Poi, nel 2009, durante il Sinodo, in cui sappiamo si riuniscono Vescovi e Cardinali alla presenza del Pontefice, che tuttavia in quell'occasione dovette delegare il suo vicario, si discusse della lingua dei segni e della necessità che i sacerdoti imparino a conoscere e a utilizzare questa lingua per poter comunicare con i fedeli sordi. In seguito, si formarono gruppi di sordi cattolici a Taranto, a Roma e in diverse altre città, che fanno capo a Roma e si impegnano in attività che coinvolgono i sordi e la LIS. E, in effetti, la lingua dei segni non è qualcosa che riguarda esclusivamente i sordi, ma anche gli udenti, il che significa che anche i sacerdoti devono imparare questa lingua per poter comunicare con le persone sorde cattoliche, le quali possono prendere consapevolezza della loro spiritualità solo attraverso la loro lingua. È davvero molto bella l'attività di questo gruppo. Quindi, hai detto che esiste una sede a Roma, ma anche a Taranto? Sì, c'è una sede anche a Taranto, ma la sede centrale è a Roma, proprio perché a Roma è stato creato questo gruppo e, del resto, è più comodo per tutti che la sede centrale sia a Roma e che gli incontri nazionali, anche per la formazione, la catechesi, siano organizzati lì, dove, ripeto, si è costituito il gruppo nel 2009 e dove, tra l'altro, vive Suor Veronica. Come ho detto, sia a Taranto che in diverse altre città italiane si sono formati gruppi di sordi cattolici che ritroviamo anche a livello internazionale in diversi paesi del mondo. Anzi, qui in Italia ci sono i gruppi di più recente Costituzione. Qui a Taranto, io e mia moglie siamo responsabili del gruppo che, all'interno dell'ENS, si occupa di attività rivolte ai sordi cattolici del nostro territorio. Quindi, questi gruppi sono stati costituiti a Taranto e in diverse città italiane. E, in particolare, qui, da noi, il gruppo è coordinato da persone sorde che lavorano all'interno del settore spirituale dell'ENS con l'obiettivo di coinvolgere persone sorde che hanno bisogno di spiritualità. Allora, potresti raccontarci quale attività sono state realizzate sinora da questi gruppi? A Roma, a Taranto, ma anche nelle altre città italiane? Dal 2008, anno di Costituzione del gruppo, ad oggi sono state realizzate diverse iniziative molto belle, quali ritiri spirituali, pellegrinaggi, incontri con il Papa. Proprio di recente, a Rio, in Brasile, il Pontefice ha incontrato fedeli provenienti da tutto il mondo e questo evento è stato tradotto in diverse lingue dei segni. Era presente anche Loreto, un'interprete spagnola, molto in gamba, che si è occupata di tradurre in lingua dei segni internazionale, una esperienza gratificante per i sordi. Inoltre, abbiamo organizzato con Suor Veronica un pellegrinaggio a Cracovia, in Polonia, paese d'origine di Papa Giovanni Paolo II, al quale hanno partecipato sordi cattolici provenienti da tutta Italia e durante il quale abbiamo avuto occasione di visitare la città, i suoi musei e vivere un ritiro spirituale. I sordi hanno potuto anche visitare il santuario di Santa Faustina, questo è il suo nome segno, alla quale è apparso il Cristo. Questa apparizione è stata poi oggetto di un dipinto che rappresenta Gesù che emana dei raggi di diverso colore. E sembra che Papa Giovanni Paolo II, proprio mentre pregava davanti a questo dipinto, conservato proprio a Cracovia, abbia ricevuto la sua vocazione sacerdotale. Il gruppo ha poi visitato il campo di concentramento dove i sordi hanno potuto pregare tutti insieme in Liss. Bellissimo! Infine volevo comunicarvi che giorno 26 gennaio, come ogni anno, festeggeremo San Francesco di Sales, patrono dei sordi, la cui storia è veramente molto bella. Sia l'anno scorso che due anni fa, in occasione di questa ricorrenza, abbiamo avuto la possibilità di partecipare ad una celebrazione eucaristica preseduta dall'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, che ha dimostrato di avere molto a cuore i sordi e al quale abbiamo rinnovato l'invito, nella speranza che, anche quest'anno, possa condividere con noi questo momento. Allora speriamo che l'Arcivescovo possa accettare anche quest'anno questo invito, rendendo con la sua presenza ancora più emozionante quel momento condiviso con un'alta carica religiosa. L'Arcivescovo ha già avuto modo di conoscere i sordi cattolici del territorio, proprio attraverso i frequenti contatti con il gruppo di sordi cattolici che si occupano di quel settore spirituale, il che significa che noi sordi abbiamo offerto ai sacerdoti e anche al bescovo la possibilità di conoscere quale sia la lingua attraverso la quale è possibile comunicare con le persone sorde, ovvero, naturalmente, la lingua dei segni. A proposito di lingua dei segni, volevo chiederti, ci sono versioni della Bibbia, del Vangelo o di testi religiosi di approfondimento specifico tradotti in lis? Ecco, parlando in generale, sappiamo che la lis è una lingua, la lingua dei segni italiana, appunto, ma poi esiste all'interno della lingua dei segni un linguaggio religioso specifico, ad esempio, i termini italiani peccato, inteso come esclamazione, e peccato, inteso in senso religioso, come azione che macchia il nostro cuore. In lis vengono espressi attraverso due segni diversi. Se così non fosse, non si darebbe modo ai sordi di comprenderne la sfumatura di significato religioso. Ecco perché già da due anni il nostro gruppo, coordinato da Luca Lamano, una persona sorda, sta lavorando la traduzione del Vangelo in lis per i sordi italiani, perché in effetti in altri paesi esistono già dei DVD o dei siti in cui è possibile trovare delle versioni della Bibbia e del Vangelo tradotti in lingua dei segni. Queste traduzioni sono state realizzate, ad esempio, già in Inghilterra, in Spagna e in Italia, invece ci stiamo lavorando, come ho detto già da due anni. Ed è un lavoro abbastanza faticoso per la diversità di struttura grammaticale che presentano le due lingue e per la necessità di videoregistrare il materiale prodotto. Quindi non so dirvi quando il tutto sarà pronto. Beh, attenderemo con ansia. Sono curioso di vedere i segni specifici del linguaggio religioso. Ecco, per esempio, io non sapevo che il termine religioso peccato si segnasse in questo modo. Io avevo sempre utilizzato allora il segno di peccato in senso di esclamazione. Ma il segno religioso di peccato eseguito vicino al cuore mi sembra più appropriato perché riguarda in effetti una sensazione o un errore che coinvolge il cuore. Davvero un bel segno. Grazie per avermi dato questa informazione. Bene, quindi so che avete realizzato anche un'attività all'estero. So che tre anni fa Suor Veronica ha organizzato un pellegrinaggio all'estero. Com'è andata? Sì, organizziamo anche dei pellegrinaggi all'estero come ti ho detto. Siamo stati in Polonia e poi un gruppo di sordi è stato anche in Israele. Viaggio al quale però io purtroppo non ho potuto partecipare. Ma che pare sia stata un'esperienza bellissima. Nella Terra Santa dove Gesù è nato e vissuto fino alla sua crocifissione. Il gruppo ha potuto toccare varie tappe accompagnato da una guida da un interprete Liss di Roma da Suor Veronica, naturalmente e da un interprete che traduceva dall'ebraico all'italiano. È andato benissimo. Il gruppo è veramente molto contento. Ho letto un articolo sull'incontro tra l'arcivescovo di Taranto Filippo Santoro e il Papa. Ma è vero che il nostro arcivescovo ha invitato il Papa a Taranto? Sì, è stata una sorpresa per tutti noi. Ha destato grande meraviglia in tutti i tarantini sordi e udenti perché naturalmente è motivo di orgoglio per noi che il Papa venga proprio nella nostra città. Chiaramente noi organizzeremo il necessario affinché questo bellissimo evento che non sappiamo se si svolgerà ad aprile o a settembre sia accessibile anche ai sordi che saranno in prima fila e usufruiranno di un servizio di interpretariato. Sì, infatti di solito durante questi eventi a carattere religioso i sordi sono sempre in prima fila insieme a tutti gli altri disabili in uno scambio emotivo reciproco. Ah, una curiosità Papa Francesco ha un suo nome segno? Questa è una bella domanda Sì, ecco questo è il suo nome segno Perché è proprio questo nome segno? Come sapete Papa Francesco ha origini argentine e in Argentina ha avuto diverse occasioni di incontrare persone sorde Il Papa ha un modo meraviglioso di parlare alle persone di comunicare la parola del Signore e i sordi argentini hanno scelto il segno di colpire al cuore per identificarlo proprio perché le sue parole colpiscono e dunque questo è diventato il suo nome segno ufficiale Beh, allora speriamo che quando Papa Francesco verrà qui a Taranto il gruppo dei sordi cattolici avrà modo di segnargli anche un po' di lis Ci sono dei recapiti a cui il pubblico o gli udenti che volessero avere informazioni relative al vostro gruppo possono fare riferimento? Sì esiste un sito dei sordi cattolici in cui in futuro pubblicheremo la Bibbia tradotta in lis e in cui attualmente è possibile trovare le storie di vita dei santi tradotte in lingua dei segni e le informazioni relative a dove e quando nelle diverse città italiane vengono celebrate le messe tradotte in lis in maniera tale che se per esempio una persona sorda fa un viaggio a Milano e vuole partecipare ad una celebrazione dominicale può tranquillamente consultare il sito e informarsi sul luogo e l'orario in cui in quella città viene celebrata la messa tradotta anche a Taranto tutte le domeniche alle 18 presso la parrocchia Madonna della Fiducia viene celebrata una messa durante la quale viene offerto ai sordi che partecipano un servizio di interpretariato lis quindi è possibile trovare pubblicate sul sito cliccando su specifici link tutte queste informazioni e anche informazioni relative alle varie attività che svolgiamo questo sito non ha un proprietario è di fatto di proprietà di tutti noi fedeli sordi ed è accessibile anche agli udenti che conoscono la LIS qual è l'indirizzo? www.sordicattolici.blogspot.com è un sito provvisorio perché prossimamente verrà pubblicato un nuovo sito ufficiale tra i nostri collaboratori c'è anche un sacerdote brasiliano Don Delci che si sta occupando proprio del sito diversi religiosi e religiose ognuno con un ruolo specifico stanno collaborando e stiamo diventando sempre di più di questo sono molto contento e grazie al Signore potremo sperare di migliorare ulteriormente credo sia chiaro quanto questo gruppo si impegni in iniziative volte a coinvolgere le persone sorde ed anche le persone udenti curiose di conoscere il mondo dei sordi cattolici invito i telespettatori che hanno figli sordi a portarli a conoscere questo gruppo in conclusione c'è una riflessione che vorrei condividere con i nostri telespettatori sordi e udenti anche con chi magari non conosce le persone sorde segnanti vorrei condividere con gli spettatori questo mio pensiero esistono sordi cattolici che utilizzano la lingua dei segni e a partire dal 2008 attraverso la LIS è stato possibile portare luce soprattutto alle persone sorde perché in passato i sacerdoti le suore non conoscendo la lingua dei segni avevano molte difficoltà di comunicazione con i sordi ma gradualmente le cose stanno cambiando e di questo sono molto contento vedo che attualmente molti udenti imparano non solo la LIS ma anche la LIS a contenuto religioso che come ho detto è diversa questo diventa strumento di integrazione tra sordi e udenti e di vera accessibilità anche in ambito religioso e sono molto contento che in tutto questo ci si stia riuscendo a coinvolgere anche diversi sacerdoti e suore che bella riflessione infondere luce sulle persone sorde affinché ci si renda conto che esistono la cooperativa ONLIS è davvero felice di averti avuto come ospite grazie a te arrivederci